per sicurezza metti che metti che siamo carichi a bomba enci presente playlist più presente di enci il perfetto era la quarta bella di marcia se non ci arriviamo in ritardo altre bombe 130 bombe siamo arrivati cazzo la quarta bella Grazie a tutti. Grazie a tutti. Salata e pomodoro. Forse è stato bello. Adesso sarei in bagno a cigare. Forse è in bagno a cigare. Forse è in bagno a cigare. Forse è in bagno a cigare. Missione racchetta e compiuta. Oh yeah!